Sentite, io ho assistito a moltissimi spettacoli collettivi, a festival, io sono stato anche a un festival a Berlino tanti anni fa, siamo sempre sui 40-30 anni fa, due volte, tre volte sono ritornato nel periodo in cui c'era il muro, ho capito che cos'era l'angoscia e la sofferenza della gente che viveva con questa costrizione intorno e la voglia per me, che era un estraneo, quasi di ribellarsi alla logica che esisteva in quel momento, essendo un uomo di sinistra, quindi ho sofferto ancora di più. Oggi vivete una situazione difficile per tutto il mondo, ma particolarmente positiva perché Berlino è una città viva e i tedeschi hanno dimostrato di saper ritrovare, di riformare, di ricostruire delle situazioni difficili, di arrivare a galla e camminando quasi sull'acqua come un miracolo. Ebbene, vi faccio augurio di riuscire veramente a stravolgere attraverso il teatro, già cominciando dal teatro, la situazione che c'è, dimostrare di avere un'enorme fantasia. Questa è la salvezza dell'uomo, non soltanto del teatro. Grazie. 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 Grazie.